Bentornati a tutti e bentornato anche a te Danilo, come stai? Grazie, grazie, bene bene, poi sono bello già nell'atmosfera di oggi che so che si parlerà di temi allegri, gioviali, simpatici Sì sì sì, perché si avvicina alla fine di ottobre come ogni anno si avvicina a Halloween E tu giustamente mi hai detto, senti ma perché non facciamo un bello episodio a tema Halloween? E io ti ho detto di sì, ma prima di arrivare a questo ho pensato, ma invece di arrivare direttamente ad Halloween Carichi di dolcetti, scherzetti, cose simpatiche e carine Parliamo di bagni di sangue, massacri e cannibalismo con la storia tra realtà e finzione Del fantastico e mirabolante bucaniere Lolonois Sigla Quindi dicevi Flavio, il giorno di Halloween ovviamente regaleremo uno special di Halloween Ma tu dici prepariamoci già una settimana prima con un po' di temi cruenti Con uno dei predoni del mare più violenti, sanguinosi e insanguinati della storia Sì, è famoso Oh, bene bene Allora, il nome di questo personaggio di oggi è François Lolonois Eh, sarà difficile oggi Ma infatti in italiano si chiama Lolonese, io lo chiamerei così Esatto Oppure lo chiamerei François perché essendo un personaggio così discreto, simpatico e affettuoso Lo chiamerei per nome François, anche un nome carino Tra l'altro è un nome falso perché il suo vero nome era Jean Davineau E tutti lo chiamavano però Lolonois Lolonese, appunto perché veniva da Le Saint-Dolonne Che è una cittadina sulla costa occidentale della Francia L'ubicazione temporale è quella della seconda metà del 1600 Lui è nato nel 1630 ma si è spostato ai Caraibi a vent'anni, nel 1650 E si è spostato lì con un contratto interinale dell'epoca praticamente Perché lui aveva sottoscritto un contratto di servitù debitoria Che lo rendeva praticamente uno schiavo Fino a che non avesse finito di pagare con il proprio lavoro i suoi debiti per trasferirsi nel nuovo mondo Che era una cosa molto buona all'epoca Non come ora che lavoriamo liberi Guarda questi tempi dell'epoca Schiavi erano questi Quindi più o meno intorno al 1660 Ci ha messo solo dieci anni a ripagare i debiti Ha iniziato a vagare un po' per le isole dei Caraibi E ha incontrato i bucanieri Visto che erano tutte personcine a modo un po' come lui Si trovò bene ad unirsi a loro Non nella fase in cui i bucanieri facevano il barbecue e vendevano l'arrosto agli spagnoli Ma nella fase in cui attaccavano i bastimenti e depredavano Pensa che lui si distinse immediatamente per un'impresa molto insordina Senti quelle cose che succedono e tu dici Ah vabbè questo potrebbe succedere a chiunque Si trovava vicino alla cittadina di Campece Quando una pattuglia spagnola trova lui e i suoi Sto gruppo di bucanieri che non erano lì proprio con buone intenzioni E questa pattuglia spagnola li coglie in fragrante E praticamente li stermina Ecco Come fa Lolonese a salvarsi il nostro amico François Si ricopre del sangue e delle viscere dei suoi compagni massacrati E si nasconde in mezzo ai cadaveri E quando gli spagnoli se ne vanno Lui tranquillamente si rimette in piedi Si pulisce Raggiunge un gruppetto di schiavi che erano scappati dai loro aguzzini E se ne torna a Tortuga Insomma così inizia la carriera di questo simpatico amico di stasera Deve essere stato bello frequentarlo Anche quando aveva gli aneddoti a cena da raccontarvi Ho mai detto di quella volta che mi sono volto nelle viscere Eh sì ce l'hai già detto Sì in effetti sì Ah fra E questo è solo l'inizio Ah bene Sì 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 Pensa che Comunque io credo che sta cosa del fatto di essersi lavato nelle viscere Di suoi amici Se la fosse legata un po' al dito Perché poco tempo dopo Lui decise di lasciare Tortuga di nuovo Per una nuova spedizione E se ne va in una città spagnola E la prende in ostaggio Nel senso che la occupa E manda Sì 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 Manda gli spagnoli Un riscatto Dice se vi volete la vostra città Pagatemi Quindi non una persona Come farebbe diciamo un criminale normale Ma per tutta la città E il governatore di Havana Cuba Decide di Armare una spedizione Solo per ammazzare L'Olonese Fantastico Insomma E questo è solo l'inizio della carriera Per intenderci Il problema è che Nel momento in cui Questa Spedizione Raggiunge Il nostro amico François Lui Riesce a Sconfiggerli Catturarli E Decapitarli Tutti quanti Tranne uno Tranne uno Eh uno l'ha risparmiato Sì Perché doveva recapitare Un messaggio Al governatore Della Havana E il messaggio Diceva Da ora in poi Per tutta la vita Ucciderò ogni spagnolo Che incontrerò Sulla mia strada E devo dire Che questa promessa L'ha mantenuta Come vedremo Cioè Quei cattivi da film Che lasciano vivo uno Per raccontare agli altri Esistono Nella persona Dell'Olonese È fantastica Eh sì sì E lui aveva appena iniziato La carriera In questo Aveva appena giusto Iniziamo comunque Con calma Guardiamoci intorno Capiamo la situazione Ma ti dirò Che l'Olonese Ha lasciato Non solo tracce di sangue Ma anche tracce Nella letteratura E nell'arte In generale Prevalentemente Nella letteratura Al contrario Di Maynard Al contrario Di Bellami Al contrario Di Everi Che invece Non vengono spesso citati Nei media Soprattutto in questo podcast Esatto E diciamo che Una ovviamente Delle più celebri E già partiamo Da territorio nostrano Citeremo comunque L'Italia Anche in seguito È Il corsaro nero Del nostro caro Salgari Sì Qui L'Olonese Viene chiamato Pietro È particolare Pietro No È particolare Questa cosa Secondo me Salgari Ha detto Pietro Pietro È visto Molto giusto Studiando Le fonti Viene descritto Nel romanzo Come uno spietato Nemico Degli spagnoli E anche qui Direi che ci siamo Torna tutto E come un uomo Che avrebbe Terminato Dice il narratore La sua carriera Sotto i denti Dei mangiatori Dei mangiatori Dei mangiatori Di uomini Non spoileriamo troppo Ma già un po' Abbiamo parlato Di cannibalismo E quindi Aspettatevi Il peggio Viene detto Che questo Pietro L'Olonese Fa spargere Appunto Tanto sangue Agli spagnoli Forse cambia un po' La biografia Iniziale Ovviamente Lui è olonese Anche Nel testo Di Salgari Parte come Contrabbandiere E poi Perde il fratello Il fratello Viene ucciso Questo nella realtà Penso non ci sia Forse Salgari Voleva creargli Un trauma Un po' Più razionale Cioè La sua ira Il suo carattere Particolarmente Violento Magari Gli viene innestato Dall'autore Da un trauma Familiare Da qualcosa Di personale Mentre Quello storico Era pazzo Di suo Senza Nessun motivo Cioè Gratuitamente Uno dei temi Del Corsaro Nero E comunque La vendetta Un tema ricorrente Bravo Esatto Esatto È un tema Salgariano E sui temi Salgariani Avevo una riflessione Che però Mi hai già smontato Ma vado con ordine Anche nel libro Di Salgari Lui Parte come schiavo E poi Arriva a diventare Filibustiere Quindi anche qui Effettivamente Torna tutto E assieme a Corsaro Nero Corsaro Rosso E Corsaro Verde Causa Indicibili lutti Agli spagnoli Allora Qual è il tema Salgariano Che volevo citare Nel romanzo Viene descritta La sua audacia E la sua capacità Di sopravvivere Quasi a tutto Quindi è in grado Di sterminare Nemici In una volta sola Striscia nel fango Nel sangue E io volevo fare Una riflessione Sul fatto che Gli eroi salgariani Comunque hanno Questa Fermezza Questa prontezza Sono veramente Granitici In un mondo Appunto Di uomini Invece più subdoli Meno moralmente elevati Loro hanno doti morali E fisiche Eccezionali Quindi dicevo Guarda il personaggio Di invenzione Come lo hanno descritto Quasi super Invece poi mi dici Che questo Decapitava Si nascondeva Fra i cadavri Cioè Comunque direi Che anche quello vero Aveva delle capacità Non da poco Diciamo Un estro E un'arte Di grande sopravvivenza Molto particolari La cosa più bella Due cose belle Per chiudere La parentesi Di Salgari Noi scherziamo Un po' Con il maestro Salgari Cui Dedicheremo Una puntata Aggiungete Questa alla lista Aggiungete alla lista Allora Il personaggio Dell'Olonese In Salgari Esclama sempre Per le sabbie Dell'Olon E effettivamente Lui Viene da Sable de l'Olon Cioè Lui praticamente La sua esclamazione È il posto Da dove vive Come se uno dicesse Ma per casal palocco No È da dove Vieni tu E poi La cosa più Bella ancora Qua ripeto Scherzo Col maestro Salgari Loro hanno Lui e il corsaro nero L'Olonese E il corsaro nero Hanno una specie Di dialogo A un certo punto Del libro Che sembra Qua Chiedo Perdona È una battuta Sembra quello Di pollo e steppe In tre metri Sopra il cielo Perché È una battuta È una battuta Perché a un certo punto Pollo e steppe Dicono Ah ti vedo innamorato Ti batte il cuore Quando la vedi Cioè cercano di Fare una disamina Di cos'è L'innamoramento E anche In Salgari C'è il corsaro Che si innamora Di una erede Dei Van Guld Quindi La famiglia Contro cui lui Ha giurato vendetta E lui dice Però mi sono innamorato E qua L'olonese mostra Un'apertura Al romanticismo Che forse quello storico Non aveva E gli dice Ma per i filibustieri Mic è una vergogna Amare una donna Cioè Gli dice Tu devi amare Poi gli chiede Ma tu l'ami E lui dice Alla follia Cioè c'è questo momento Che Moccia avrebbe Se non altro Apprezzato A volte però Il corsaro nero Quando Pietro Va un po' a scavare Troppo nei sentimenti Comunque sono uomini rudi Non è che puoi andare Troppo a fare Sentimentalismi Gli dice Troppo letteralmente Ho rivisto oggi Taci Pietro Che secondo me Detto al vero Lonesi Una roba tipo Taci François Ti trovavi morto Tre secondi dopo In modo In modo brutale Creativamente brutale Torniamo pure alla vera Sì Ecco Diciamo che il vero François Non lo vedo così Romantico Insomma Non lo vedo come questo Gentiluomo francese Magari Magari dei ruggenti anni venti Insomma No No Diciamo che Ecco La mossa romantica Che possiamo dire Che lui fece In una data Che ha già Dal punto di vista Proprio numerico A qualcosa di interessante Che è il 1667 Mette insieme Altri Bucanieri Creando una flotta La flotta Probabilmente Più grande Finora Almeno Messa insieme Dai Dai filibustieri Di Tortuga Otto navi 440 pirati Tutti Agli ordini Di François Che è la cosa Non promette bene E tra l'altro Lungo la via Si unisce a lui Un altro famoso Bucaniere Michel Basque Tutti insieme Questa Orda Marina Travolge Merci Navi spagnole Che intanto In camera Non aveva Perché Comunque Ti immagina Essere un mercante Spagnolo Che torna Dalle colonie Con il tuo carico E ti ritrovi Più di 400 Bucanieri Incazzatissimi Come se non bastasse Agli ordini Di François Lolon Comunque La loro direzione È Maracaibo Ah giusto Giusto Sì Sì All'epoca Era praticamente La città più ricca Tra le colonie spagnole Comunque Una delle più ricche Una città Che era Difesa Da una fortezza Che si diceva Inespugnabile Pensa Un castello In una colonia Quindi In una città Che era costruita Sul mare E Praticamente A ridosso Di una giungla In un posto Inesplorato Un castello Con 16 cannoni Equipaggiato Da armi E soldati Detto Inespugnabile Arriva François Un paio d'ore E conquista Il forte Espugnato Sì Diciamo che A differenza Dei soldati Lui non teneva Né alla sua pelle Né a quella Dei suoi uomini Quindi Diciamo che Le battaglie Di François Non erano forse Strategicamente impeccabili Ma Dal successo Inaspettato Insomma Quindi Una volta Conquistata la fortezza Perché no Saccheggiamo la città Solo che Il saccheggio Della città Non significa Che Sai come Immagini Un saccheggio Nella fantasia Passa l'orda Dei pirati Passa Ruba tutto E se ne va E non è proprio così Perché loro Restano a Maracaibo Per qualche mese Sì Il problema è che Quando arrivano Mentre loro Nero impegnati A conquistare La fortezza I cittadini Di Maracaibo Che non erano Proprio gli ultimi Degli stupidi Decisero Di levare le tende E nascondere Tutti i propri preziosi E sparire Nelle foreste Il problema è che François Quando arrivò Mi piace chiamarlo Per nome Quasi lo rende Un essere umano Gli farebbe piacere Quando arriva a Maracaibo Trova la città deserta E anche lui Non era proprio stupidino E decide Di mandare qualcuno A cercare I cittadini E purtroppo Per loro Li trova Perché Li trova Li riporta In città E inizia Con la sua Specialità Che era La tortura Difatti Ormai Dopo il suo bagno Nelle viscere Nei compagni Insomma Era diventato Un personaggio Abbastanza scafato E quindi Aveva imparato Alcune tecniche Di tortura Peculiari Tra cui Tagliare le vittime A pezzi E bruciarle vive Oppure Legare una fune Attorno alla testa E stringerla Con un mezzo Marinaio Fino a che gli occhi Non saltano fuori Dalla testa Insomma Giusto Non so cosa fa il tuo Sabato sera Lui faceva questo Questo Comunque Rimasero A Maracaibo Per due mesi E si dedicarono A quello A cui si dedicavano I bucanieri Ovvero Rapine Stupri Incendi Eccetera 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 Mentre si trovavano lì Gli spagnoli Ovviamente Non è che Stavano ad aspettare Insomma Decisero Decisero di mandare Una guarnigione A combattere i pirati E liberare la città E il problema È che Il nostro amico François Aveva le sue Avanguardie Quindi Lo avvisarono Che c'era questa Truppa spagnola In arrivo François Aveva ancora Più di 300 uomini E quindi decise Invece di aspettare Che gli spagnoli Arrivassero da lui Di andare Lui incontro a loro Perché comunque Come abbiamo detto Gli voleva bene Agli spagnoli Ogni occasione Era buona Per un incontro Insomma E Li raggiunse Nella cittadina Di Gibraltar Dove erano Accampati E Come recitava Un famoso Il titolo Di un famoso film Anche se non avevano Le colt Comunque tuonarono E fu tempo Di massacro Gli spagnoli Persero Più di 500 uomini I bucanieri Una quarantina Questo per Farti capire Un po' La disparità Nella violenza Tra le parti Eh sì Sì E Il François Sembrava Aver apprezzato Comunque Questa cittadina Chiamata Gibilterra Perché ci passò Sei settimane Facendo Chissà cosa Lo puoi immaginare Sì A questo punto Gli spagnoli Erano disarmati Dissero Chiesero All'olonese Una tregua Gli dissero Guarda Ti paghiamo Se te ne vai E lui Dispose Sì 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 Pagatemi Pagatemi E loro lo pagarono E lui Non se ne andò Strano Non era lui Non era da lui E continuava A razziare Fino a che Praticamente Questa cittadina Di Gibilterra Fu completamente Svuotata Maracaibo Fu completamente Svuotata E dopo Insomma Due mesi Di Questa vita Maracaibo Era stata Quasi Rasola Solo Dagli incendi Quella piccola Cittadina Chiamata Gibilterra Era stata Completamente Rasola Solo Dagli incendi Quindi Fatta Letteralmente Terra Bruciata François Finalmente Decide Di andarsene Ma Prima di andarsene Perché Non tornare Alla fortezza E bombardare Della città Perché Non togliersi Quest'ultimo sfizio Prima Prima Del viaggio E effettivamente Dopo Questa Dopo Questa serie Di indicibili Crudeltà L'Olonese Viene Soprannominato Dai suoi stessi Compagni Quindi dai Bucanieri Dai Filippo Ustieri di Tortuga Il flagello Degli spagnoli Insomma Pure tra di loro Che comunque Non è Che erano Bravissime persone Lui si distingueva Insomma Hanno aspettato Un bel po' Per dargli Un soprannome Che già Due o tre Stragi fa Poteva benissimo Meritarsi Strano Tra l'altro Cioè Mette i brividi Questa Storia Davvero Io per Halloween La puntata Di sabato prossimo Avevo proposto a Flavio Un tema Che ora mi sembra Banale Cioè I pirati Fantasma O comunque I capitani Mostruosi Nell'arte No Invece Poteva benissimo Essere questa Già la puntata Di Halloween Perché è inquietante Te l'ho detto Era preparatoria Perché Tra l'altro L'anno nefasto Che hai citato Che sia numericamente Che come eventi È stato nefasto Che il 1666 È anche l'anno Del grande incendio Di Londra Quindi è stato È stato un anno Che ha dato Credito al numero Che portava Ma Come ti dicevo Parleremo molto Dell'Italia Oggi Perché Perché C'è un'altra Serie di libri Ove compare Il nostro Olonese E Questi libri Sono scritti Da F.A. Stone E tu dirai E che c'entra L'Italia Invece F.A. Stone Era lo pseudonimo Di Fulvio Apollonio Che è un giornalista Italiano Uno studioso Di filatelia E Prettamente famoso Per quello Per le sue Collezioni E i suoi studi Che però Ha scritto anche È venuto a mancare Nel 2002 E ha scritto anche Dei romanzi Per ragazzi Con questo pseudonimo E sono romanzi Che contengono La figura Dell'Olonese Ti dico soltanto Tortuga Impero della Filibusta È il primo Ok Caraibi in fiamme È l'ultimo E ci sta Io dicevo Che strano titolo Invece ora Mi hai descritto Chi può aver mai messo I caraibi in fiamme L'Olonese stesso Il titolo di mezzo è L'Olonese Il terribile pirata Che qua Se scriveva Temibile Io potevo fare un riferimento A Monkey Island Invece F.A. Stone Non me l'ha fatto fare Però l'hai fatto Lo stesso riferimento Esatto E È difficile reperire Delle citazioni Di questi libri Dal web Però sono in vendita Anche usati Sicuramente ci sono Delle generazioni Che ci sono cresciuti Con questi libri E se li ricordano Con nostalgia Si possono trovare Anche acquistabili Usati Quindi chi ha voglia Di immergere Più che altro Sono curioso Di sapere Come fai Un racconto D'avventura Per ragazzi Con l'Olonese Che è la figura In cui meno Un ragazzo Dovrebbe immedesimarsi E qui meno Sperare di ambire A diventare come lui Immagina un domani Tuo figlio Che ti dice Papà Voglio diventare Come l'Olonese Sarei fiero Sarei forse fiero No scherzo Allora Ma sempre per ragazzi Vi ricordate Che La scorsa volta Nel descrivere Le varie età Della pirateria Abbiamo parlato Di uno sceneggiato Rai Che era Quelli della filibusta Che era Uno show Bello D'altri tempi Con una ricerca Musicale Attoriale Di scrittura Come solo Gli show Di una volta Ecco il mio momento Boomer Che ogni tanto Dove venire fuori Vi abbiamo già detto Che c'era L'Olonese Interpretato Dal grande cabarettista E artista circense Attore e cantante Gianni Magni Anche qua Vorrei capire Come Fai in uno show Per ragazzi La figura Dell'Olonese Cioè per quanto Puoi edulcorare Le cose Comunque devi raccontare Queste tragedie Che sono dietro La vita dell'Olonese Io ho provato A cercare Qualche spezzone Qualche canzone Perché poi Era uno show Molto musicale Invece Si trova poco Ma Ma Io non ho Fermato la mia ricerca Come quando hanno cercato I cittadini Di Maracaibo Per la giungla Anch'io Ho continuato A cercare Tracce E ho trovato Alcuni commenti Di persone Come dicevamo prima Che sono cresciute Con questo Programma televisivo E che lo ricordavano Nei commenti Con nostalgia E c'era qualcuno Che condivideva Più che un ricordo Un trauma Perché c'è una scena Dove l'Olonese Qua ormai stiamo Un po' spoilerando Che fine farà È in un pentolone Con i cannibali Che gli ballano Intorno E la canzone Della trasmissione In quella particolare Scena Diceva Scrive il commento Come buono L'Olonese Con un po' Di pomodoro Ora Questo scrittore Del commento Questo autore Del commento Si ricordava Questa scena Che secondo me Gli si è radicata Dentro come un trauma Cioè questi cannibali Che cantano Un inno alla morte Della vittima E deve essere Stato un trauma Però quando si parla Dell'Olonese Non puoi che andare Nel cruento Nel sanguinolento È abbastanza inevitabile Col tipo di vita Che ha fatto È inevitabile Esatto Ecco lui magari Rappresenta veramente Lo stereotipo Di pirata Che dici sempre tu No che generalmente Avevano a barba nera Cioè lui era veramente Una besta Era lui Comunque ecco Con la sua fama Di fragello degli spagnoli Una volta tornato a Tortuga I bucanieri Che Comunque Erano tutte Personcine delicate E che sicuramente Non erano Aspetta Erano tutte Personcine delicate E Sicuramente Impressionabili Dalle avventure Dell'Olonese Magari non impressionabili Nel senso Che intendiamo noi Perché Una volta Arrivato a Tortuga Più di 700 pirati Fanno a spallate Per unirsi a lui E lui prepara subito Una nuova spedizione Perché comunque Era inarrestabile Sto François E stavolta Non è che va Verso una colonia Una città Decide di fare Un ride Su tutta L'America centrale Praticamente Perché Aveva messo insieme Una forza militare Non so Forse voleva conquistare La Spagna A un certo punto Non lo so Che si era messo in testa Almeno chiudeva L'apparenza Almeno si metteva L'anima in pace Conquista la Spagna Va Nel 1667 Saccheggia Un porto Che si chiama Puerto Cavallo In Honduras E poi Lungo Il tragitto Cade in un'imboscata E sti spagnoli Un po' decoccio Continuano a provocarlo E sta cosa Non è che gli va Tanto bene O meglio Agli spagnoli In generale Va bene Perché gli amici Del olonese Li sterminano Quasi tutti Solo che lui Con alcuni compagni Riesce a scappare Anche da questa imboscata E scappando Si porta Presso Due spagnoli Prigionieri E Poveracci Non so Se ti posso raccontare Quello che gli succede Chi è impressionabile Si tappi Sì ecco Mettiamo sto disclaimer Perché Una volta in salvo Lui si mette davanti A sti due prigionieri Tira fuori la spada E a uno gli apre La gabbia toracica A metà Ok Gli tira fuori il cuore Con la mano E se lo mangia Davanti all'altro Prigioniero Quando ha finito Di la merenda Gli dice All'altro Se voi Continuate A non lasciarmi scelta Io vi servo Tutti Allo stesso modo Ah ecco E Il Prigioniero Anche lui Leggermente Impressionato Da quello Che aveva appena visto Sì Mostra a François Tutte le vie sicure Per raggiungere La città di San Pedro Da dove poteva tornare Alle navi E quindi lui E i suoi compagni Tranquillamente Si fanno Il tragitto Senza problemi E raggiungono La propria nave Che con le buone maniere Si tiene tutto Buonissime maniere E Qui La nave Dell'Olonese E i suoi pochi Compagni superstiti Riparte Solo che Una tempesta Li coglie E si Arena Sugli scogli Del Nicaragua In una località Che si chiama Pearl Cay Non è che si è scoraggiato Ha ricominciato a fare Ha risistemato Un po' La nave Ha ricominciato a fare Dei ride E quindi Ha assaltato Campece Ha assaltato San Pedro Sula Tutta la costa Del Guatemala Insomma Non è che Era Picro Insomma Lui E Nell'anno successivo 1668 Tra l'altro Si era già dimesso in piedi Una piccola flotta Tanto che Una delle sue navi La vende A un altro Bucaniere Che era Rock brasiliano Che Era appena Tornato dall'Europa E voleva unirsi A Henry Morgan Per una spedizione Che è meglio Non sapere Cosa e dove Perché Poi mi tocca Iniziare a dire Ne parleremo Un'altra puntata Comunque è un altro Bagno di sangue Aspetta rido Perché mi è venuto Mi è venuto in mente Beh immancabile Sono Nel nostro podcast Le associazioni Fra L'era della pirateria E la commedia All'italiana Dovremmo scrivere Una tesi Secondo me Di storia E antropologia Il legame Non così visibile Ma presente Fra pirateria E commedia All'italiana Fossero stati Gli anni 70 Ci avrebbero fatto Fare un film Dei pirati Con Lino Banfi Pozzetto Brega No Dato che Mi hai detto Come venivano Come veniva chiamato L'olonese Il flagello Allora Stavo provando A trovare Ho già i brividi Con atti Con atti La flagella Di dio Che però L'olonese Non può fare Lo spelling O come Orgia Forse Non lo so Cosa facesse Però mi immagino Lui che dice Spabba I bucanieri Uomini Di inaudita Violenza Gli spagnoli Hanno tirato Troppo la corda Chi la fa L'aspetti Ecco Dove passa lui Non cresce L'erba Ecco Quindi Questo era L'olonese Anche per Stemperare Un po' Questa bella Ondata Di sangue Pulsante Che Flavio Ci ha regalato No ma perché Sembra Vlad Zepes Che poi era La figura storica Che ha ispirato Il Dracula Più o meno Le torture Gli impalamenti Sono quelli lì Strano che Non ci siano Horror Sull'olonese Ma probabilmente Ci saranno Perché la realtà È un horror Con l'olonese Porca miseria No ma tra l'altro Noi diciamo sempre Che la storiografia Sui pirati È incompleta Vuoi perché Fra di loro A parte Qualche Pirata Che sapeva Scrivere E abbiamo citato Un po' Nelle nostre curiosità Sulla pagina Facebook Che vi invitiamo A guardare È raro Trovare Una storiografia Piratesca Scritta dagli stessi Pirati Che a malapena Sapevano Scrivere Però di solito Diciamo Molte delle cose Che si sentono Sui pirati A causa di questa Lacuna storiografica Sta a vedere Che saranno Miti e leggende Io ho la sensazione A pelle Che sull'olonese Siano tutte cose vere Anzi Che manchi Qualche tortura Che non ci hanno riportato Ma che lui faceva Quotidianamente Sì anche perché La storia dell'olonese L'abbiamo Grazie a Eximeling Che era Eccolo Questo nome Odioso Che comunque Era un pirata Pure lui E stava Con Harry Morgan E conosceva bene L'olonese Quindi sapeva Le cose che combinava Che abbiamo citato Comunque Comunque lui Nel libro Che ha scritto Sulla storia Dei bucanieri È scritto In prima persona Cioè Dalla testimonianza In prima persona Lui quando Scrive Harassment Perché è una versione inglese Quello olandese Non so com'è la parola Cioè quando scrive Infastidire E lui intende Torturare Alla morte Cioè parliamo Sì sì Gente fatta a pezzi E bruciata O appesa Per i genitali Ai vali Cioè Questi sono Questi sono I modi in cui I bucanieri Diciamo Davano fastidio Ai cittadini Che Lazziavano Che dici I prigionieri Oggi vi infastidiremo Dice vabbè Ci è andata anche bene Invece poi scoprivano Cos'era Però L'olonese Non è presente Solo in letteratura Ma anche Nel Fumetto Allora Innanzitutto La cosa che io Non mi aspettavo Ma che sicuramente Il 90% Della popolazione mondiale Sa È che Appare Citato in One Piece Noi come sappiamo Oda Cita I nomi Dei pirati Dell'età Caraibica Della pirateria Affibbiandoli Ai suoi personaggi Non per forza Perché siano Delle parodie O delle versioni fumettistiche Solo cita a volte I nomi E anche l'olonese È servito Per dare il nome A un personaggio Io ho detto Chi sarà È Zoro È Zoro in persona Quindi uno dei protagonisti Perché Roronoa Sarebbe Una La versione più vicina Alla pronuncia giapponese Dell'olonese Noi sappiamo Che rispetto ai prestiti linguistici Giapponesi Hanno una pronuncia Molto particolare Ma pure io e Flavio Oggi non è che stiamo facendo Queste pronuncia Proprio fedeli Alla lingua franca Quindi Roronoa È un rimando Proprio all'olonese E Già ti fa Per pensare Un personaggio Badass E molto Molto forte Ma cito anche Una Bandesine Ci denunceranno i francesi Dopo questa puntata Probabilmente Una graphic novel No Non ci piace chiamarla così Un fumetto Un fumetto francese Che si chiama Tortuga Edito da Ankama Che è una casa Editrice Molto sperimentale Che fa Lavori di Grande qualità E Tortuga Vede Fra i suoi Personaggi A partire dal Soprattutto dal secondo volume L'olonese Sono tutte Quelle di In Tortuga Vicende di Finzione Però vi invitiamo Se avete voglia Se avete modo Penso Non so se c'è un'edizione italiana Però Informatevi O comunque Guardate anche solo Questa Immagine di copertina Di questo fumetto Bellissima Piratesca Con Che sembra un po' Mignola Come tratto Stilistico Quindi guardatela Perché vi gaserà Probabilmente la useremo Come immagine Anche noi Della pagina Prima o poi Quindi Anche nei fumetti Appare L'olonese E questo ci conferma Che è un personaggio Veramente Più antico Dei pirati Settecenteschi Perché è di un'epoca Precedente Che però Ha lasciato Un segno Rispetto a tanti altri Pirati A noi più vicini Grazie a questi suoi Record Ha lasciato una cicatrice Più che un segno Ha lasciato un segno Proprio di quelli Molto molto Forti Io penso che se oggi Esiste la riduzione Ad Hitlerum Quando qualcuno è cattivo Dice Come Hitler Invece penso che all'epoca Si diceva Era come François Detto François Detto François Da noi Per renderlo Un po' più Umano Comunque L'avevamo lasciato Intento Nelle sue attività Simpatiche Carine Lì In Nicaragua Il problema È che a un certo punto Si era stufato Di stare Piantato lì Quindi Decide di Risalire Il rio grande Del Nicaragua Perché Qual era l'obiettivo Lui aveva sempre St'idea Secondo me Lui a un certo punto Voleva conquistare La Spagna Cioè era questa Secondo me L'idea era quella E quindi Qual era l'obiettivo Era risalire Sto fiume E raggiungere La zona interna Del Nicaragua E occupare Tutte le città Del Nicaragua Spagnole Ovviamente Ok Il problema È che Mentre risale Il fiume Viene attaccato Da I nativi Nicaraguensi I nativi Gli americani Appunto Del Nicaragua E Questi Sembravano Particolarmente Aggueriti Probabilmente Ecco Per usare Lo stesso Fiume L'olonese I suoi Li avevano Infastiditi Parecchio Esatto Durante la loro Permanenza In quelle zone E comunque L'olonese Riesce a fuggire Un'altra volta Per un pelo Immortale Sì Capitombola Verso Cartagena In Colombia Il problema È che Lungo il tragitto Comunque Stava Credo da solo O comunque Con pochissimi Compagni E Non avevano Vivere Non avevano Nessun tipo Di sostentamento Quindi Prima di raggiungere La città Che comunque Era una città Spagnola E quindi Avevano bisogno Di mettersi in forze Per poter Scamparla Anche lì E riprendere il mare Decide di Fare il bucaniere Quindi Mettersi un po' A cacciare A cercare qualcosa Da mangiare Per lui Per se stesso E per i suoi Qualora avesse avuto Ancora dei compagni E Mentre cerca Il cibo Viene catturato Dai nativi Del Nicaragua Della tribù Kuna Tra le cui Usanze Vigeva Come hai Anticipato Il cannibalismo E Racconta La cronaca Che L'Olonese Fece un po' La fine Dei suoi Delle sue vittime Perché Il karma Il karma Sì sì Viene fatto a pezzi Cucinato E mangiato Che dire Peccato Era una così brava Persona Con una storia Che è iniziata Con un tizio Che si immerge Nelle viscere Nel sangue Credo che sia Il finale Più legittimo Sì Non ce lo vedevi Che si ravvedeva Andava in un monastero Irlandese No Ecco Questo non è il tipo Di personaggio Che si imborgesisce Non credo proprio Io Stavo pensando Mentre Flavio parlava Che voi direte Ma mentre Flavio parlava Non lo ascolto Cioè Come a scuola Flavio parla Io faccio Sogno occhi aperti Pensavo Non so cosa sogni Con ste storie Un romanzo E te lo dico subito Un romanzo storico Ed avventura Salgariano Intitolato L'Olonese La belva umana Dove C'è un pirata Uguale all'Olonese Ma che non è lui E si crea tutto Un gioco di equivoci E viene arrestato L'Olonese Gli fanno anche L'interrogatorio Gli dice Hai fatto tutto A tocchettini Gli spagnoli E lui dice No non sono stato Bene Ma a parte questo Che voi direte Se devi di ste cose Piuttosto Ascolta Flavio Cito in ultima Analisi Un romanzo Purtroppo Non ho trovato Molte fonti italiane Di questo romanzo Presumo Sia una serie Di romanzi Fantasy Della autrice Evelyn Brisu Pellin Che nonostante Tutta l'enfasi Che ci ho messo Non si pronuncerà così Nemmeno per sogno Sarà tipo Pellin Così Ve lo dico Come si legge L'Emanoir E praticamente In uno di questi Volumi Il quinto Se non erro Appare L'Olonese Io mi sono letto La trama In francese E praticamente Appare L'Olonese Che è un Cioè In questo romanzo C'è una sfida Fra fantasmi grigi E fantasmi bianchi Penso sia un fantasy Da quello che ho potuto Dedurre dalle fonti Se qualcuno ne sa Di più Nei commenti Ce lo dica L'Olonese È un fantasma grigio Che aiuta i protagonisti Contro Cioè Fantasmi bianchi Contro altri Fantasmi grigi E io ho detto Strano Non è da Olonese Fare questa cosa Nella Nella sezione Che riassume La trama Questa trama Che vi sto dicendo C'è scritto La parola Aiuta Fra virgolette Cioè Chi ha scritto Il riassunto Vuol dire Guardate L'Olonese Aiuta Ma fra virgolette Quindi non oso pensare Cosa voglia dire Aiutare Se infastidire Voleva dire Torturare Forse aiutare Vuol dire Sì ammazziamo Tutti i fantasmi grigi Fino al loro ultimo No ma guarda Non serve François Meno Meno È un libro Per bambini No Quindi ragazzi È un personaggio Veramente Che come Stavo dicendo Interessante Ma non è interessante Una persona del genere Terrificante È molto Terrificante Questa era La fase Primordiale Di quella Che sarebbe stata L'era Dei predoni Del mare Che poi si è Evoluta Fra virgolette Perché poi Non è che Ha sviluppato Un'etichetta E un È un animo Da galantuomo In chi Ne era protagonista Però E questa era Proprio la fase Iniziale Molto Ancora più Selvaggia Di come poi Sarebbe stata In seguito E l'olonese Ne è un grande Rappresentante Abbiamo visto Che ha segnato L'immaginario Di molti Noi chiediamo A Hollywood Mi raccomando Un horror Sull'olonese E In conclusione Dico questo La cosa Che avrete notato Di tutta la puntata È una Noi vi abbiamo Descritto In questa puntata Delle torture Vi abbiamo Descritto Degli orrendi Atti di violenza E delle scene Cruente Ma voi avrete notato Che la vera Violenza Il vero atto Violento Barbaro Non è stato Quello dell'olonese No È stato quello Mio di Flavio Contro la pronuncia Francese Quella è stata La vera barbarie Della puntata Quello è stato Vapo cruento È vero o no Flavio Sì Chiediamo ufficialmente Scusa alla Francia Esatto A tutta la Francia Ci vediamo ad Halloween Che sarà più soft Di questa puntata qua Ciao Ciao